Alcune cilindrate aumentano come quelle della Z800 che è diventata Z900, altre diminuiscono come quelle della Versys e guardatela qua, ecco a voi la Versys X300, il motore è quello del Ninja 300, un po' rivisto per renderlo più dolce e sfruttabile anche nel fuoristrada dolce. E poi le linee che prendono ispirazione a quelle della Versys ma con un look sicuramente più giovane. La forcella anteriore è da 41 e il motore abbinato al serbatoio garantiscono a questa piccola cross-tourer un'autonomia davvero pazzesca, pensate 400 km con un pieno. Non ancora ufficializzati i prezzi ma a breve li troverete sul sito.